Ci siamo quasi, è il gran premio dell'Arabia Saudita. Si spengono le luci e via, partiti! Oh, la Ferrari sale di una posizione! La Red Bull passa! Era forse un bloccaggio. Ecco il replay. Stiamo vedendo la Red Bull. Va al bloccaggio. Era l'ultima cosa di cui aveva bisogno. Questo è un colpo durissimo per la squadra. Riusciranno a reagire. Qualcuno ha bloccato le ruote. Sembrerebbe un bloccaggio. La Red Bull Un po' di partito è il nostro inizialismo. Spade il punto di attrazione. Spade, porta. Spade. Spade inizialismo Spade inizialismo Spade inizialismo Spade inizialismo Grazie a tutti. C'è stato un bloccaggio in pista? C'è stato un blocco. 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 Il pilota della Ferrari ha guidato magnificamente. C'è stato un blocco. 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 C'è stato un blocco.